14.000 votanti ed una vittoria schiacciante di Nicola Zingaretti, anche in Capitanata. Il dato provinciale delle primarie riflette in maniera speculare quello nazionale, con il governatore del Lazio in cima alle preferenze col 65%. Secondo, Maurizio Martina, che si ferma al 21,5%. Terzo, Roberto Giacchetti, con appena l'11% dei voti degli elettori ed esempatizzanti del Partito Democratico. A Foggia Città è un tripudio per il nuovo leader DEM, 1.634 preferenze, mentre per i renziani i risultati sono ingloriosi, 592 per Martina e 319 per Giacchetti. Il dato sull'affluenza è il più controverso, dai 12 ai 10.000 elettori in meno rispetto alle primarie del 2013 e del 2017, ma in quei casi, specificano dagli ambienti DEM, c'erano da celebrare anche congressi cittadini o provinciali e la partecipazione, in quelle occasioni, si fa decisamente più massiccia e più incandescente. In controtendenza vanno solo le città di Ascoli Satriano, Carapelle e Cerignola, dove c'è l'europarlamentare gentile che si ripropone per Bruxelles, perché sono gli unici centri in cui il renziano Maurizio Martina, seppur di poco, è riuscito a spuntarla su Nicola Zingaretti. Adorsara e Regnano Garganico, invece, a sorpresa ha la meglio Giacchetti, che registra risultati impietosi nelle altre città. Nel resto del territorio è il governatore del Lazio ad avere la meglio.